eccoci ciao Luca eccoci buonasera benvenuto guarda questo ci aveva messo un coso un pezzo di scotch sulla videocamera una specie di logo glielo ho rotto ti vediamo Luca che bello sei direttamente in diretta senti mi ha chiamato prima Roberto non riuscivo a risponderti poi stavo impicciato a montare quest'altro computer tutto bene voleva probabilmente dirti che una volta entrato saresti stato buttato direttamente in live quindi in questo momento sei in diretta Luca ciao benvenuto è un piacere per non averti qui con noi quindi grazie che ci vogliamo dire di bello una bella chiacchierata ci facciamo adesso guarda prima di tutto ma voi siete siete in tre posti diversi in tre studi diversi sì siamo in tre studi diversi esattamente poi ogni tanto quando le stelle si allineano ci incontriamo per fare eventi per fare delle live specifiche insomma però di base siamo in tre location diverse ma siete in che città d'italia siete noi bene o male siamo nel Lazio tutti e tre perché io e Spanchi siamo di Roma Andrea di Civitavecchia ah sta al mare beato lui abbiamo anche uno in Sardegna esatto sta meglio di tutti è lui super mare lui super mare va bene va bene ma voi siete quindi siete dj cosa siete siete speaker sì una sorta è una cosa strana che noi in realtà siamo presentatori abbiamo un nostro talk show sullo stile americano però un po tutto nostro siamo un po' vj un po' speaker un po' presentatori siamo dei creatori di contenuti ecco abbiamo questo nostro format che si chiama si chiama live talks dove andiamo a invitare quelle che per noi sono le eccellenze all'interno dei vari ambiti della cultura pop quindi parliamo di gaming di sceneggiatura di videogiochi di fumetto di recitazione di doppiaggio diversificate bravi diversificate esatto no perché il doppiaggio non è una cosa impressionante cioè l'attenzione che c'è al doppiaggio è una cosa a volte imbarazzante veramente secondo me c'è un divismo capito io per carità poi può essere anche giustificato però per me che ho iniziato il doppiaggio quando si faceva in un altro modo e era un lavoro di nicchia nessuno cioè noi per esempio non ci pensa io poi vengo da una famiglia di attori mio padre è anche stato un doppiatore anche lui per dire cioè noi non ci ponevamo il problema di chi doppiava quello chi doppiava quell'altro capito? davamo tutto per scontato quindi cioè non passava così insomma invece è stato secondo me soprattutto il grande avvento della televisione che ha portato questo cambiamento vedi ma secondo te secondo te adesso poi entriamo ovviamente nel vivo della chiacchierata e della e questo è un bene un male o entrambi cioè nel senso porta con sé lati positivi ma anche negativi ma cioè lati positivi possono essere cioè perché è piacevole per gli attori cioè per i doppiatori essere riconosciuti si sentono importanti insomma sentono così questo può essere la cosa positiva poi però se parli di lavoro poi è un'altra cosa perché il lavoro è sceso molto insomma il livello cioè c'è talmente una massa di lavoro spaventosa che c'è anche tanta gente quindi insomma diciamo che da una parte ha fatto un bene però ha fatto avvicinare tanta gente che pensa che sia un lavoro semplice che si fa così basta avere una bella voce si può fare il doppiaggio capito? quello è un po' il problema e invece quello che insisto sempre io nel dire bisogna prima essere attori cioè lui devi essere attori poi il doppiaggio è una specializzazione del lavoro dell'attore chiaro infatti prima quando diciamo il doppiaggio è scoppiato negli anni metà degli anni 80 con la creazione delle tre reti berlusconiane e l'altra cos'è la 7 che ha preso un po' e quindi dovevano mettere sul mercato talmente tanta roba che è anche servita a una gran massa di gente cioè il doppiaggio c'era i film e poi sì qualche serie televisiva che andava su Rai 1 o Rai 2 insomma questo era il livello del doppiaggio per dire capito? quindi era molto ridotto improvvisamente è arrivata questa cosa le famose furono chiamate le mille ore capito? che bisognava doppiare nel più breve tempo possibile perché dovevano coprire i programmi cioè tutta la giornata e queste cose qua insomma ah ok ok quindi diciamo quello è un po' il male il male poi insomma viene sempre cioè è il modello americano un po' quello che ha cambiato di fare la televisione il cinema è un'altra cosa insomma chiaro la televisione il modello americano ha proprio cambiato tantissimo le cose ha cambiato tantissimo adesso non sarebbe ne mille ore mi sa eh cambiato ulteriormente tempissimo poi adesso soprattutto ci sono ci sono lì ci sono i reality quella è il nostro perché i reality li facciamo al volo quella è la cosa pazzia cioè i reality neanche cioè non guardiamo incidiamo direttamente direttamente capito? quindi devi avere una una prontezza una velocità spaventosa chiaro però siccome sono pagati malissimo quello è un altro problema e allora le società per poter far fronte alle spese devono e avere lavoro perché poi se tu hai una società e hai delle sale tu le sale le devi cercare di farle lavorare il più possibile tutte quante se c'hai una sala già un giorno una sala vuota quella è una perdita in un certo senso hai capito per dire quindi è tutto un meccanismo di questo genere insomma ok ok no no chiarissimo va bene ciao arrivederci grazie è stata una bella sera nooo ma come ci siamo appena iniziati a scaldare comunque Luca guarda noi non ci siamo presentati ma tu stai in un aeroplano stai sì sì è una mia astronave personale ho un diciamo una stanza che ho adibito un bunker sì è stato un bunker sotterraneo dove ci ho messo tutte le mie passioni riversate dentro quello dalle luci alle è bello a vederlo qua e velo potrebbe sembrare anche un po' odissea nello spazio una stanza finale di odissea nello spazio esatto esatto però bene mi trovo capito mi trovo a mio agio perché è come se entrassi nel mio arem no però capisco è un po' psichedelico allora noi ci presentiamo sono Mauro mi chiamano tutti i men però tu chiamami ovviamente Luca come vuoi poi c'è Spanchi che insomma ah ma non c'è più i capelli di rosa ma poi c'è scritto Spanchi e Andrea è scritto al contrario perché lui è il più simpatico di tutti mi piace fare i turdi mi piace avere queste si vuole un po' distinguere una piccola creazione un po' particolare siamo esseri umani tutti abbiamo debolezze chi è che non ha debolezze una volta stavo seguendo un'intervista a un famoso non so se è scrittore italiano che dice ma come mai si è fatto crescere i baffi e il pizzetto ma perché piaccio più alle donne quindi è stato molto è stato molto carino è molto vero cioè un po' di una sana vanità che abbiamo un po' tutti in un certo senso insomma Andrea tu perché hai fatto crescere il pizzetto ma in realtà guarda che ce l'abbiamo tutti in tre qui se tu ci fai caso siamo tutti in tre il mio e il bianco si vede meno però c'è anche il mio è vero vanno 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 a me cresce solo così non è che a me cresce solo così ma tutti quanti è una cosa anche mio figlio che a 21 anni c'ha c'ha il pizzettino lui senza baffi mi sa però però c'ha anche lui un affalino così da sporcatura davanti insomma tipo la mosca ma perché ma perché ormai fa fashion dai fa anche no bello avere un po' di di pelo ecco piace alle donne perché no spanchi il maschio richiama il maschio proprio il primo io sono sono pro barba è pro barba vedi anche perché non so non so voi però a me la barba cresce in una maniera assurda cioè a me cresce a chiazze quindi l'unica parte uniforme dove mi cresce è questa e i baffi quindi è diciamo mi piace mi piacerebbe avere anche quei barboni tipo alla De Rossi dei bedempi però non posso averli quindi mi accontento insomma è sempre stato anche il mio problema quello purtroppo vero Luca è una tragedia eh lo so e vabbè anche a me serve una bella barba uniforme bella tutta mi piace anche io ho peli più che barba insomma esatto eh vabbè vabbè non si può avere tutto dalla vita d'altra parte è vero noi tre siamo stati baciati dalla bellezza e quindi in qualche modo dobbiamo andare a soffrire vedi 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 dobbiamo pagare anche noi certo dovevamo avere qualcosa in meno per aver ottenuto così tanto in più prima esatto esatto sono d'accordissimo sono d'accordo allora Luca guarda la nostra chiacchierata verterà in questo modo ossia noi faremo non sappiamo dove andremo a parare non abbiamo domande pronte quindi a noi piace proprio mantenerla così dove dove ci porta la conversazione però ci sarà una prima parte eh diciamo gestita da noi dove andremo e cercheremo di conoscerti più a livello personale di capire la persona dietro al professionista dopodiché ci sarà una seconda parte la parte finale che sarà gestita dalla chat dove andremo a rispondere o a selezionare casualmente alcune delle domande che sono arrivate e sono tantissime delle mille mila e in questo caso ci saranno saranno più focalizzati diciamo sulla tua carriera sulle tue esperienze su un ruolo piuttosto perfetto va bene va bene va bene ok abbiamo solo una domanda preparata che è uguale per tutti e se è la nostra domanda con cui iniziamo diciamo tutti i nostri talks quindi l'abbiamo ripetuta 205 volte siamo molto curiosi di vedere anche come tu risponderai a questo porta con sé un piccolissimo preambolo Luca che potrei anche non farlo però la chat no fallo 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 il preambolo fallo ti prego ormai l'hai annunciato perché loro l'hanno sentito un sacco di volte ma è brutto proprio anche sentendolo la prima volta allora Luca sono Andrea Spanchi che sono due brutte persone perché in chat lo amano lo amano tutte le persone che ci stanno seguendo fanno preambolo senza pressione vai col preambolo Spanchi ti faccio dire i comandi chat fa attenzione comunque il preambolo è questo noi magari usciamo la mattina in base a che ne so incontriamo un numero X di persone 10 in base a come ci siamo alzati se abbiamo preso il caffè siamo nervosi o meno queste persone avranno 10 immagini diverse di come noi possiamo essere però dal nostro punto di vista è invece molto interessante capire e vedere come il nostro ospite vede se stesso quindi io ti chiederei chi è Luca non tanto dal punto di vista professionale perché ne andremo a parlare dopo mi devi fare il balletto Spanchi io abbiamo tanti che ci seguono non udenti lei è il canale 777 esatto quindi chi è Luca dal punto dal tuo punto di vista per quel che riguarda aspetti caratteriali passioni e hobby che rendiamo un po' difficile che non c'entrano magari niente con quello che è l'ambito lavorativo bella domanda bella domanda difficile risposta molto difficile risposta il resto è tutto in discesa tipo colore preferito esatto esatto che ti devo dire io ti ho subito la prima cosa che salta io sono pigro anch'io sono estremamente pigro e questo è stato il mio il problema che mi sono portato avanti tutta la vita uno dei motivi per cui faccio il doppiaggio è la pigrizia perché il doppiaggio ti permette cioè una volta che sei dentro al doppiaggio non ne esci più ti chiamano mentre quando fai l'attore quando fai l'attore ti devi andare a fare devi andare alle scene ti devi far vedere devi insomma devi fare vita sociale ecco diciamo io adesso per esempio io sono uno che ha fatto molta vita sociale adesso in tarda età faccio pochissima vita sociale faccio una vita molto 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 ritirata ho fatto un figlio a 50 anni e questo mi ha come si dire mi ha in un certo senso non destabilizzato però diciamo che io pensavo di fare un tipo di vita poi invece a 50 anni mi sono ritrovato con questa cosa che quindi mi ha ha spostato completamente il mio modo di vedere le cose insomma quindi quella è stata una tappa molto importante della mia vita e quindi mi sono dedicato molto a mio figlio sono stato molto con lui soprattutto quando ero piccolo mi sono preso dei mesi potendo me lo permettere mi sono preso dei mesi sabbatici perché la mia compagna cioè la madre di questa creatura era in teatro recitava in teatro quindi io diciamo accudivo io Paolo e lei giustamente recitava poi dormiva la facevo dormire la mattina perché voi siete giovani ma un figlio io dico sempre dormi perché quando nasce un figlio non dormi più cioè praticamente i primi tre anni quasi non sai cosa vuol dire dormire per dire insomma ecco quindi questa è stata diciamo io ho fatto la mia vita un po' divisa prima e dopo cioè tutta una vita fatta improntata al cazzeggio completamente cioè d'altra parte c'era Gaffa che diceva cioè recitare l'attore è meglio che lavorare diceva per esempio in effetti un po' è vero perché tu pensi per esempio quando fai teatro tu vai in giro per tutta l'Italia fai amicizie in compagnia possono nascere amori possono nascere tante cose vedi posti paesini che forse non vedresti perché quando fai i decentramenti vai in paesini assurdi un po' in giro per l'Italia per dire quindi è un mestiere affascinantissimo da quel punto di vista infatti non capisco mai quando i ragazzi dicono ma perché non volete fare gli attori no io voglio fare il doppiatore il doppiatore insomma ecco e quindi ti dico la pigrizia è stata un po' la mia poi sono molto sono stato molto incostante in amore ecco questa è un'altra cosa che ho fatto cioè ho faticato sempre a portare avanti le relazioni e questo anche questo un pochettino mi ha penalizzato in un certo senso perché non sono mai riuscito a costruire bene tu non sai quante case ho cambiato io nella mia vita per dire capito perché cioè ogni nuovo amore era più o meno o io andavo da lei o lei veniva da me oppure e quindi era tutto traslochi ogni due tre anni trasloco 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 una vita emozionante poi ho incontrato questa donna la madre di mio figlio con la quale invece le cose sono andate bene purtroppo anche lì per un certo tempo perché siamo separati da quando Paolo aveva sei sette anni per dire perché purtroppo insomma sono così poi forse perché sono forse di base forse sono un solitario tutto sommato sono una persona io sto molto solo per esempio sto moltissimo solo io leggo molto infatti da come potrete vedere qui dietro alle spalle e questa è una delle tre librerie per dire che ho quindi per esempio hobby non sono uno che segue il calcio non sono tifoso della Roma anche se anche se lo guardo perché mi piace perché ho giocato quando ero ragazzo quindi mi diverte però non sono tifoso non lo seguo insomma ecco ho giocato a tennis ma oramai sono vent'anni che non gioco più cioè diciamo ragazzi io ho 72 anni cioè non è che ce n'ho capito complimentone complimentone magari il men esatto ma magari cioè ci metterà la firma proprio cioè quindi sai di acqua ne è passata sotto questo bonte insomma quindi adesso diciamo che un po' infatti anche sul lavoro io per esempio non faccio più il direttore di doppiaggio ho smesso di fare il direttore di doppiaggio perché il direttore di doppiaggio vuol dire stare a tre turni tutti i giorni io adesso non do più la mattina la mattina non lavoro più per esempio capito scelgo le cose da fare quindi diciamo mi tengo delle giornate libere mi prendo luglio invece di lavorare luglio me lo passo anche quello in vacanza per dire che ne so ecco diciamo che ho staccato un po' faccio molte lezioni ecco quello sì insegnare mi diverte insegnare mi anche se è faticosissimo è fatico insegnare se lo fai seriamente se ti dedichi è veramente faticoso ci vuole pazienza ci vuole pazienza e ci vuole anche psicologia in un certo senso perché devi anche capire cioè con te devo essere in un modo con lui per arrivare a un risultato con lui invece devo essere in un altro modo per dire capito quindi quello è un po' te ti devo prendere con la dolcezza lui lo devo spronare lo devo pungolare per dire ecco questo è un po' quindi è un po' quello che è un po' quello che poi fa anche un po' il regista in un certo senso io ho fatto anche delle regie teatrali quando fai il regista quello devi capire perché poi gli attori sono tutti di una fragilità spaventosa sono tutti tutti i casi clinici alla grande proprio alla grande veramente se tu vai se tu vieni adesso purtroppo una volta c'erano i salottini perché purtroppo poi è arrivato il covid e il covid ha spezzato un po' tutto noi una volta c'era il turno era alle 9 della mattina e tutti quelli del turno alle 9 della mattina stavano lì invece col covid si andava ognuno cioè tu vieni alle 9 tu vieni alle 9 e 40 tu vieni alle 10 e 20 quindi non c'era più incontro non c'era più quel parlare quel scambiarsi cose così e quindi venivano fuori tutte le varie malattie insomma di questa categoria perché non è genere anche perché in effetti poi per fare un mestiere che non ti dà perché poi in effetti non è un mestiere che ti dà sicurezza in un certo senso tra virgolette ma poi anche i mestieri che fate voi comunque non sono mestieri anche voi state nel campo artistico quindi sapete cosa vuol dire insomma soprattutto i primi tempi sono un po' duri per tutti io ho avuto la fortuna di nascere in Roma e vivere in Roma però ho avuto tanti amici colleghi che so Pasquale che è venuto da Cosenza quell'altro che è venuto da cioè che per i primi anni insomma io infatti casa mia era una casa aperta perché tanti appunto cioè per me era sempre ero nato e cresciuto qua sono sempre stato qua poi ho avuto molta fortuna sul lavoro perché sono partito alla grande da ragazzo facendo un sacco di sceneggiati in televisione e quindi poi proprio per la famosa pedrizia quella cosa lì siccome io andavo alle scene invece potremmo andare a calzeggiare con i miei amici facevo un po' così hai capito oppure appresso a una fidanzata che ne so insomma e quindi vabbè così però non mi posso lamentare io dico sempre rispetto al mondo sono uno strafortunato e che ha avuto anche tanto rispetto a quello e diciamo che sono uno che ha avuto più di quello che ha dato sicuramente eh vabbè te lo meriti però parlando così da uditrice mi sarebbe piaciuto infatti sto cercando di dare molto adesso sinceramente di dare cioè dare aiutare cercare di fare qualche cosa anche per gli altri sento molto il bisogno per esempio di fare un po' di volontariato proprio perché secondo me è una cosa che andrebbe fatta perché c'è tanta gente che ha veramente bisogno insomma e chi è più fortunato forse un po' di tempo lo deve anche dedicare a chi è meno fortunato insomma questo ti fa onore che bello che bello sì assolutamente io sono rimasto molto colpito dal fatto che hai detto che sei pigro perché lo sono molto anch'io e da molti viene visto come qualcosa di negativo però in realtà io quando qualcuno mi dice oh mazza sei proprio pigro faccio sempre riferimento a una frase di Steve Jobs che è diciamo colui che ha rilanciato l'Apple che ha fondato insieme a un'altra adesso è un'Apple sì 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 so chi è no no lo dicevo lo dicevo per qualcuno in chat magari non sapere chi fosse ah ma perché qualcuno ci sta ascoltando nel fatto che sì esattamente esattamente no no e credi che eravamo solo nei tre cioè insomma io no 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 allora io sarei stato molto felice di essere solo con te Andrea però con Spanchi mai con Spanchi mai mai nella vita proprio Spanchi sei un mostro Luca una volta mi ha augurato di sentirmi male ancora me la ricordo è vero sei proprio una brutta persona andrebbe in galera è vero vedi Andrea conferma è capito sono il gatto e la volpe non so se tu sei una bella ragazza normale ti tocca un pochettino vedi Luca tu le hai dato della bella ragazza in chat l'altra volta hanno fatto un botto di domande e l'hanno tutti ma dico tutti scambiata era un ragazzo cioè ciao al nostro ospite ai ragazzi e hai capito lei era rientrava nei ragazzi purtroppo il plurale è maschile non è vero non è vero però insomma sono mischiati insomma Steam Jobs diceva che lui assumeva solamente persone pigre perché la persona pigra ovviamente è intelligente ti riusciva a trovare la soluzione nel minor tempo possibile col minor sforzo possibile effettivamente non è male non è male questa cosa non è male vero effettivamente giusto giustissimo ma io per esempio sono uno che poi sul lavoro lavora come un pazzo però la pigrizia è cercare darsi da fare hai capito è quello non so fare telefonare convincere una persona su un progetto per esempio ecco ah ok chiaro quello quello a me mi fa quello per me è faticoso insomma è faticoso invece poi una volta che tu mi dici fai questo sono un treno un treno sassi per dire capito chiaro perché devo infatti perché io fra un po' ho finito e quello ti spinti dalla motivazione infatti è quello poi che diceva steve job capito il meno del tempo possibile che poi così ah mi posso rilassare praticamente insomma è vero sì 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 Luca io sono curioso di sapere una cosa no qual era il tuo sogno da bambino e se coincide poi con quello che hai fatto nella vita perché ad esempio assolutamente assolutamente no ah e qual era il tuo sogno ad esempio ad esempio il mio non c'entra niente diventa un astronauta insomma capendo quanto sforzo ci sia dietro la pigrizia ha detto grazie invece il tuo qual era? ma io ti dovessi dire non cioè allora a un certo punto diciamo da ragazzino vabbè come tutte le cose ma non non mi sono mai molto non so lavorare ecco l'ho sempre visto una cosa da non fare però perché non vedevo sempre no mi piace vedevo viaggi cose avventure comunque cose avventurosi a me piacevano io ero per esempio da ragazzino pazzivo per i film western poi dall'epoca mia la mia generazione è cresciuta con i film western per dire poi verso i 16-17 anni mi ero iscritto a filosofia e volevo seguire quella strada lì poi fra una cosa e l'altra ho cominciato un po' a lavoricchiare poi insomma però ecco diciamo non ho mai avuto un sogno qualche cosa che mi come per esempio io anche questo lavoro qui non l'ho fatto per passione per dire capito io l'ho fatto perché mi era comodo tutto io vengo da una famiglia di attori ma io ho i miei nonni attori capito cioè io sono terza generazione dico sempre quindi era un campo dove mi conoscevano tutti dove potevo muovermi con ah ma tu sei ah sei il figlio ma se non sai con tuo padre con tua madre capito e quindi ho cominciato a lavorare a quel punto ho lasciato l'università e e niente e ho lavorato ho lavorato tanto però sono 50 anni scherzando wow vedi però anche quando magari non è è una cosa che non hai fatto è un lavoro che non è scelto per passione però nonostante tutto l'hai fatto in una maniera impeccabile cioè perché prima cosa per un fatto proprio di carattere e poi perché devo dire per esempio io ho molta più passione per assurdo adesso di quando avevo 20 anni per dire capito per esempio che ti posso dire gli ultimi spettacoli di teatro che ho fatto ho lavorato molto sulla costruzione del personaggio per dire capito trovarmi dei tic trovarmi un modo di parlare un modo di camminare cioè proprio fare quella che è la costruzione che si fa in teatro del personaggio quando ero ragazzo andavo lì imparavo le battute mi muovevo le dicevo avevo carattere grinta diciamo era un mestiere che mi stava facile mi stava comodo io ho visto recitare in casa mia da quando sono nato d'altra parte capito hai respirato ho conosciuto solo attori io ho avuto solo attori in casa da quando sono nato capito cioè mio padre poi c'era questa amicizia grandissima con Vittorio Gasman con Adolfo Cieli con Luciano Salce con tutta sta gente qua quindi stavano sempre lì quindi mi si sono trovato dentro diciamo un po' ecco come anticamente gli artigiani facevano il mestiere del padre insomma in linea di massima è vero poi c'era l'artigiano che diventava più bravo del padre e poi lui dice eh no eh tuo padre ma sentendoti parlare è una curiosità no non ti sei sentito immagino no un po' oppresso dalla situazione a tal punto da dire no io faccio una cosa completamente diversa perché a volte può capitare magari quando respiri sei inserito all'interno da piccolo in un contesto del genere no la voglia è scappare via hai avuto un momento in cui ti è capitato ce l'ho avuto ce l'ho avuto ma è rientrato quasi subito volevo ti ho detto volevo fare c'era il mio scritto a filosofia volevo addirittura insegnare capito andare a insegnare però non l'ho fatto poi alla fine capito e la pigrizia c'entra anche in quello cioè capito se tu devi devi aprirti una carriera in un mondo che non conosci eh ti devi fare un bel culo aprirti una carriera in un mondo che conosci è tutto molto più facile si è vero capito è vero capito chiaro purtroppo gioco forte meno male meno male per noi perché ti abbiamo insomma potuto ammirare e ascoltare su tante cose per noi sì ma per chi in età non lo metto in dubbio io sarà forse che non lo so faccio fatica perché mi fa piacere mi fa piacerissimo ogni tanto sento anche delle cose che ho fatto dico beh però poca miseria non è male questa cosa qua però soprattutto nel doppiaggio come dicevo una volta quando Steve Buscemi mi ha voluto conoscere è perché vedete lui è il mio 50% nel senso in Italia conta quasi per assurdo più lui di quanto conto io insomma ecco quindi sì sicuramente è importante sicuramente è importante però io per esempio rimango sempre che se uno ha la possibilità e conosce bene la lingua di vedere il film in originale io sono sempre un po' di questo avviso qua sinceramente oppure per esempio non so ecco il film d'azione è giusto vederlo doppiato un film d'azione però un film d'autore dove la recitazione è una certa e allora forse è lì per gustare certe sfumature perché poi sono anche a volte questione di lingua a volte rendere in italiano alcune cose in inglese è difficile non vengono bene insomma non è sempre semplice insomma ridare al 100% il prodotto perché poi quello bisognebbe tentare di fare ok ok io ho l'ultima domanda perché me l'ha serita sul piatto d'argento e poi lascio la parola a Spanchi Andrea ci puoi parlare dell'incontro proprio con Steve Buscemi perché abbiamo capito che è una cosa piuttosto rara avere l'opportunità comunque di incontrare la propria controparte attoriale no? sì devo dire che è successo perché è successo a Oreste Lionello con Woody Allen è successo a Sean Connery con con Emma non mi è il nome scusate per dire insomma dunque allora è successo questo che la produzione dopo il film dice no ma guarda dice no ma non faremo niente non si fa nulla poi un giorno che fanno la proiezione del film Luca Corri assolutamente devi venire perché Buscemi ti vuole assolutamente conoscere mi precipito al Quattro Fontane che se siete romani sapete dove sta il Quattro Fontane cosa vuol dire parcheggiare dalle parti del Quattro Fontane un delirio all'Ivo e lui mi aspetta lì sul palco e lui mi ha proprio presentato ecco signori vedete questo qua è il mio 50% lui in Italia più importante di me è stato molto carino è stato una persona dolcissima molto piccolino piccolino cioè io sono un metro settantaquattro settantacinque lui veramente ci stavo quasi quasi la testa sopra per dire capito ma carinissima una persona dolcissima ah che bello che bello che poi di origine italiana anche lui Buscemi sicuramente siciliano insomma di Massimo dovrebbe essere eh sì però sì umana una persona estremamente umana ecco questo direi umana veramente umana umana come tra gli attori americani forse è difficile trovare eh sì è vero per dire insomma così sembrerebbe no ma ma poi è particolare no perché lui proprio come come attore è stato sempre un po' eh diverso dai canoni hollywoodiani è sempre molto particolare quindi fa ancora più strano perché è riuscito diciamo a emergere in una hollywood diversa diversa soprattutto per standard di attori eh noi oggi per esempio per scaldare un po' i motori abbiamo ti abbiamo presentato nella community con una clip presa dal film Le Iene che è quella della mancia del perché non dà la mancia ah sì e lui è quello cioè lui è quel tipo di personaggio ma ogni volta è come se fosse un Mr. Pink sotto diversi aspetti cioè porta Mr. Pink con sé praticamente da tutta la carriera sì è vero a piccole dosi ed è molto bello secondo me è molto particolare comunque non è cioè è uno di quegli attori di hollywood non proprio non è una star comunque insomma di massima non fa proprio parte di quella però c'è sempre c'è spesso insomma comunque infatti lavora sempre con registi particolari in linea di massima capito per quanto sia insomma quindi per quanto ha fatto anche qualche filmone perché in prezzo con Air Armageddon sì no se c'è un pazzo in qualche filmone è il suo sì questo è sempre stato un po' il mio problema anche a me i pazzi i pazzi i drogati sempre proprio una costante ho passato veramente tanti tanti a fare queste cose così proprio di cattiveria io poi sono un pezzo di pane sono buonissimo di cattiveria Spanchi prego sì io sono rimasta affascinata dall'ambito familiare e quindi volevo chiedere volevo chiederti in ambito artistico qual è stato il consiglio più utile che ti hanno dato in famiglia e se ce n'è uno se è lo stesso oppure un altro che invece dai tu ai tuoi allievi allora in famiglia se ti dovessi dire la verità tutti sti consigli non mi sono stati dati o per lo meno io non cioè non mi ricordo ah fai questo sì così non un po' per colpa mia devo dire perché io da ragazzino purtroppo ero molto presuntuoso ero molto presuntuoso e quindi pensavo di saper far tutto quanto io quindi questo probabilmente potrebbe anche aver giocato in questo senso qua con gli anni si capiscono tante cose della vita anche voi mi sono sempre guardato dentro negli ultimi anni quindi insomma comunque e quindi tutti sti gran consigli no io diciamo ho avuto la fortuna di avere tre grandi maestri quelli sì però non è che mi hanno dato dei consigli insegnamenti mi hanno mi hanno standoci insieme per esempio con Vittorio Gasman che io ho lavorato molto in teatro con lui con lui ho imparato cosa vuol dire proprio stare sul ho imparato i fiati ho imparato i respiri per esempio che sono fondamentali per un attore da Giorgio Albertazzi altro mio grande maestro ho imparato invece che cosa vuol dire avere il rapporto con gli oggetti in scena che è un'altra cosa importante tante volte tu vedi della gente cioè che non so ha una tazzina di caffè non sa non lo beve lo tiene in vino lo avvicina alla labbra poi lo riporta indietro per dire capito invece gli oggetti li devi vivere come vanno vissuti nel quotidiano di tutti quanti noi e poi c'è avuto Elio Petri che è stato questo incontro molto bello Elio Petri mi ha insegnato la naturalezza devo dire perché lui era un regista più che altro Elio Petri non so se sapete chi è il regista di un cittadino al di sopra di ogni sospetto è stato un grande regista italiano che fece quest'unica regia teatrale con la stabile di Genova dove c'ero dove c'ero anch'io e con lui siccome era appunto aveva la recitazione cinematografica una recitazione minimalista mentre la recitazione teatrale è una recitazione molto più ampia più anche perché appunto devi raggiungere una platea mentre il cinema sta tutto qua quindi non hai bisogno di fare tanto ecco con lui per esempio ho imparato questo ecco questi qua sono le cose e poi quello che dico io ai ragazzi nervi nervi ci vogliono i nervi questo è un mestiere che se non hai i nervi non lo puoi fare ok ma Luca in chat scrivono come farsi dare un consiglio senza chiedere un consiglio perché devi sapere che la nostra spanchi e vedi t'hanno cioccato subito lei sta studiando proprio doppiaggio recitazione e doppiaggio e ogni volta cerca di perché devi dirlo che poi sembra mischi questo l'ha detto la chat la chat ha detto vedi spanchi che paracura cioè come farsi dare un consiglio senza chiederlo apertamente e lei purtroppo con scarsissimi risultati anche addetta dei suoi maestri che dicono che purtroppo non c'è portata e dovrebbe darsi ma lei è molto giovane non lo puoi dire non è vero neanche questo c'è molto giovane spanchi c'ha 50 anni per gamba Luca calcola nel senso sembra giovane ma in realtà allora è diciamo sembra giovane me lo prendi si fa la tinta insomma si nasconde il più possibile perché insomma c'ha diciamo il doppio dell'età mia e di Andrea insieme il doppio della nostra età insieme esatto però dato che i suoi maestri dicono mi sono svegliata tardi però i suoi maestri tipo massimo corvo è venuto in live ha detto sta ragazza si applica però non va ma sai io sono sempre tu puoi fare tutte le scuole di questo mondo ma se non c'è qualcosa di partenza è difficile vero cioè io non so capace che lei non mica sto dicendo che lei non ce l'ha no no però io lo vedo subito io lo vedo subito ai ragazzi quelli che hanno qualche cosa e quelli che invece questo è difficile riesco a fare l'attore poi ci sono quelli che con una grande volontà studiando tanto 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 riescono ad arrivare ad un buon livello è un po' lo stesso discorso tra chi ha l'orecchio assoluto chi è portato per la musica chi invece non è portatissimo ma sta otto ore al giorno a suonare è certo arriverà sicuramente però non avrà mai la capacità inventiva che può avere quello che invece ha proprio la musica nel sangue insomma io sono d'accordissimo con questo discorso anche nel calcio quando magari hai quel talento assoluto con i piedi che nasce così e c'è quello che magari hai fette a banana però allenandosi tanto 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 può diventare un buon gattuso per fare giusto esattamente però non arriverà mai a diventare un Messi o un Maradona giusto per citarne due e quindi assolutamente sono molto d'accordo col tuo discorso Luca quindi che mi stai dicendo che Spanky può diventare grazie dei vari incoraggiamenti Spanky può diventare un buon gattuso però deve studiare tanto ha vinto ha vinto in carriera c'aveva anche campioni del calibro di Kaká Shevchenko vabbè vabbè ci rivediamo fra un po' dettagli dettagli Andrea prego ringhio ringhio è vero ringhio allora allora io volevo chiederti una cosa un po' particolare cioè volevo chiederti se c'è un oggetto più di tutti che è in grado di identificarti cioè se tu dovessi scegliere un unico oggetto per rappresentarti a un'altra persona che oggetto sarebbe e perché bella domanda vero un oggetto per dirvi il mio sarebbe la forchetta perché mi piace mangiare sai che non è facile anche perché io non non ho anche perché ho cambiato molto negli anni sia il modo di vestire che il modo non so forse un doppio petto blu va te la butto un lato un bel doppio petto un bel doppio petto molto elegante sì 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 è vero poi blu quindi anche per una colorazione specifica beh come tu vedi io io vesto quasi esclusivamente di blu cioè un colore che adoro proprio vedi siamo sulla stessa lunghezza d'onda perché anche le nostre divise sono blu è vero è vero è vero è vero tutti quindi tutti e tre tre tonalità diverse di blu bellissimo vedi vero no sì sì sono le luci che le rendono diverse però in realtà è lo stesso dovrebbe essere lo stesso a meno che non mi ha fregato diciamo la verità diciamo il mio non è un blu è proprio una nostra divisa con il logo il nome l'abbiamo fatta sullo stile college americano perché ci piaceva però diciamo la verità quella di spanchi ha un colore leggermente diverso perché siamo andati a disparmi esatto l'abbiamo comprata alle bancarelle non importa infatti la indosso comunque con orgoglio brava brava questo è l'atteggiamento senti che bella pronuncia che ha per esempio l'italiano senti come parla bene l'italiano parla bene la lingua italiana la parla benissimo non la trovi un po' impostata Luca quando parla cioè tutta così se vuoi posso impostarmi ancora di più no no è uscela come cosa senti anche la voce sexy sa fare lo senti Luca allora dove insegni che vengo subito spanchi guarda con la voce sexy mi è venuto in mente potresti fare una di quelle conversazioni ti ricordi i fantozzi quando chiamava i numerini con le monetine esatto potresti avere un tuo lavoro molto remunerativo credo che non ci siano più questo tipo di non è detto non credo non credo però non è detto non lo so allora Luca io passerai alle domande da chat vai vai ok c'è Andrea che mi rinfora se non dovete chiedermi più niente voi delle cose noi vorremmo chiedere noi avremmo mille domande ma succede questo che se non diamo anche un po' di spazio a chi ci segue giusto domani io mi becco una caterva di insulti in privato sui social mi sembra giustissimo giustissimo anche noi diciamo che è giusto che lo insultino però anch'io lo insulto proprio perché sono una domanda anch'io se le trova sempre capito ragazzi io devo un po' dettare devo dare un po' la felicità a tutti anche a chi ci segue con qualche domanda che ovviamente non tutte perché sarebbe impossibile però però prima c'è la domanda di social partner come diceva Andrea quindi prego Andrea riportala sì allora Luca Robert Doppiatori ti chiede potendo ricominciare la tua carriera da capo cambieresti qualcosa o rifaresti tutto come hai già fatto cambierei tantissimo quasi tutto ne farei un'altra beh il discorso è questo cioè c'ho un'altra testa cioè hai un'altra testa io io non ho la testa che avevo a vent'anni adesso sono proprio un'altra persona quindi siccome so non rifarei i grandi errori che ho fatto ecco sicuramente questo forse rifarei alcune cose le rifarei ma non farei i grandi errori che ho fatto ve ne ho fatti i trequattro niente male quindi sì quello io sono un po' tizio un piccetto curioso ci puoi dire un grande errore che hai fatto o meglio lasciarli beh un grande errore ti dico il fatto di non aver frequentato per esempio un grande errore fu una volta che mi chiamarono in televisione per presentare una trasmissione una serie di trasmissioni della tv dei ragazzi ti sto parlando ero 24 25 anni io dissi no perché devo andare alla Biennale di Venezia a fare questo spettacolo niente per inseguire questa cosa cioè poi in realtà poi ho pensato tutto sommato siccome mi diverte molto a me presentare fare queste cose qua se avessi quello è stato un piccolo errore che ho fatto insomma fare una scelta di quel genere ok tornando indietro insomma andresti a cambiare sì sicuramente sì anche per quello spettacolo poi non è stato sta grande cosa insomma tutto sommato e poi sicuramente stare andrea è sostituibile comunque assolutamente ma io ho lavorato ho lavorato più di un io ho aperto Radio Luna che era una radio degli anni tra le prime radio private wow che radio private facevo lo speaker facevo le cose che facevate che fate voi insomma mettevo i dischi dicevo stupidaggini facevo cose di questo genere insomma per dire quindi sono pratico sono pratico della radio insomma eh ma si si vede si vede anche dalla naturalezza che hai qui con noi che non è da tutti insomma anche ospiti molto no vabbè ma c'è io sono un po' l'età anche l'età l'esperienza cioè conta un po' sai se questa intervista tu me l'avessi fatta 30 anni fa sarebbe stata sicuramente diversa da quella che adesso per dire ok ok io adesso diciamo ho acquisito una certa sicurezza tra virgolette di me che non avevo sicuramente che a 40 anni mascheravo a volte con con eruenza hai capito per dire si 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 proprio per insicurezza per debolezza e cose di questo genere adesso non ho non ho più bisogno di quel di mascherarmi ecco capito capito bene e allora passiamo alle domande della chat che portano con sé un piccolissimo jingle e una precisazione noi andremo solamente a leggere casualmente le domande che evidenziate utilizzando i punti canali ossia quelli che noi chiamiamo gigovatt in onore di ritorno al futuro voi parlate tanto quindi ovviamente non andrò a fermarmi su altro ma solo su quello che vedo evidenziato e quindi fatelo altrimenti la vostra domanda non ha l'opportunità di essere eletta già sono tante quindi già vi dico che per me potete anche fermarmi verrà fatta una scrematura però se voi comunque volete continuare a farle magari chi lo sa potremmo come non potremmo leggere la domanda di Schrödinger in questo caso tanto i social sono sempre là l'insulto è dietro l'angolo ma sì va bene anche così c'è il jingle molto esotico sulla base del limbo che facciamo partire bene ti sei immaginato Luca tipo non so in riva all'oceano con tutto la palma beh c'è è molto molto solare molto marina come canzone sì assolutamente vero oh bene carinissima carinissima oh grazie grazie siamo contenti perché tu sei l'avete registrata voi ma è stata fatta per noi ma noi non almeno noi tre non credo che abbiamo l'abilità di poter arrangiare e cantare però è stata fatta ad hoc per questo format molto carina molto carina grazie domande nella chat esatto allora prima che vedo e premiamo sempre il dito più veloce senza di twitch esatto volevo dire il più veloce verrà presto ironizzato il dito più veloce ed è di Tommy buonasera al man fallo no vedi l'altra volta era un man letterman adesso man fallo grazie Tommy Andrea al sir Luciano spanchi sei diventata Luciano e all'ospite Luca chiedo dei ricordi se ha dei ricordi sull'esperienza di Phineas e Ferb speriamo ritorniate per le nuove stagioni e qualche aneddoto su Jackie visto che abbiamo avuto anche Davide Garbolino come ospite settimana scorsa quindi esperienze su Phineas e Ferb e ah Zachi ah Zachi quello arrenda creatura maronna do Carmine allora Phineas e Ferb Phineas e Ferb beh c'è una cosa molto bella prima cosa è che c'era un direttore splendido che era Danilo De Girolamo che era una persona carinissima dolcissima molto brava molto preparata e lui era il direttore quindi ci siamo divertiti molto sai aneddoti Phineas e Ferb parliamo veramente di tanto tempo fa cioè credo che l'ultimo Phineas e Ferb l'avrò fatto perlomeno tre anni fa che per me sono tantissimi e aneddoti più che altro più che altro che mi facevo una fatica come un pazzo perché è un personaggio faticosissimo che tutto qua le risate le risate pazzesche che bisognava fare insomma quello mi ricordo la fatica non ci sono stati episodi divertenti qualche cosa avrò fatto sicuramente qualche qualche papera che sarà sembrata anche divertente però sinceramente non mi viene in mente Zacchi invece è una cosa molto più recente perché l'ho finita prima di Natale mi sembra che fosse una cosa di questo genere e Zacchi sono rimasto sconvolto sono rimasto sconvolto da questa cosa perché io dico ma perché uno deve vedere questa qua che ammazza tutta sta gente chi lo fa fatto benissimo poi fra le altre cose e poi lì c'era il Davide Garbolino una persona carinissima anche lui devo dire sono stato fortunato da questo punto di vista perché non è facile fare il direttore di doppiaggio fra le altre cose perché non sai mai cioè se se l'attore si può storgere se tu gli dai per esempio se tu gli dai intonazione molti attori se tu gli dai intonazione si rigidiscono per esempio quella è una cosa così allora devi so cercare di spiegarlo con delle allocuzioni cercando di fargli capire il personaggio tutte queste cose qua insomma e quindi Davide da questo punto di vista era molto bravo si faceva capire quello che voleva senza doverti dare per forza l'intonazione anche se a me se io tante volte senti dimmi come la devo dire perché così ci togliamo il pensiero capito senza che perché poi ci sono ci sono i creativi perché poi purtroppo lì c'è oddio vabbè qui sto divagando però c'entra niente puoi farlo puoi divagare tutto il tempo che vuoi assolutamente insomma quindi ecco diciamo aneddoti divertenti cose divertenti non me ne ricordo sinceramente non mi non mi vengono in mente solo che questo Zaki altro personaggio poi a me sempre cose faticosissime che pure qui non altro che urla strida ride e poi le risate è tutto diaframma ragazzi capito Spanky le risate è tutto diaframma lo devi fare cioè è faticosissimo c'è tutta una tecnica per imparare a ridere bene che non è facile Spanky adesso è specializzata nei colpi di tosse esatto che è uguale che siamo lì comunque brava brava cioè nasce proprio dal colpo di tosse la risata brava bravissima bravissima Andrea magari magari Spanky la prossima volta dal colpo di tosse ti faranno fare anche una risata nel prossimo sì sì può darsi può darsi un star nudo un star nudo tra l'altro Luca in Finesse e Ferbo il tuo ruolo è amatissimo perché in chat hanno scritto tantissimo le catchphrase del tuo personaggio quindi ecco a voi du per schmitt re del male sventura a te per il lornitorinco le hanno scritte cioè tantissime persone quindi è rimasto cioè tu non hai idea le persone ci sono tante persone che mi fermano oppure anche soprattutto quando portavo mio figlio al calcio da ragazzino cose di questo genere che prima di fare ma io ma io non sento la sua voce ma io la sua voce ma e quando sapevano perché glielo diceva mio figlio che io facevo questo dufe che tutti i ragazzini guardavano questa cosa volevano tutti che gli facessi che gli dicessi sventuca te per quell'on di tovenco e che glielo registrassi sul telefonino di queste cose per dire una cosa pazzesca sì è vero è piaciuto molto era buffo era molto carina la serie era fatta molto bene la serie sì sì la serie era fatta molto bene però il tuo personaggio è stato amatissimo ed è fattelo dire raro per un cartone dove il cattivo è così amato in realtà dalle persone poi l'ha fatto male beh però è un cattivo che gli va è un po' un cattivo alla bibip in un certo senso capito che gli va sempre male poi alla fine no sì sì è vero è vero e poi in realtà ci ha accompagnato quando uno dice ci ha accompagnato anche con un'altra grandissima con un'altra un altro grande personaggio però mettiamolo così non mi dire pimpi per favore no no della pubblicità peggio che era carletto che i sofficini ma in realtà ci ha accompagnato per tantissimo tempo cioè era una pubblicità quindi lo vedevi almeno otto volte al giorno quindi insomma la voce la simili dopo un po' carletto carletto oggi sono andato a fare degli spot nuovi di carletto proprio stamattina per dire va bene altre domande altre domande altre domande altre domande allora sarei curioso perché hai detto non mi dire pimpi però dato che a me piace tantissimo Winnie Pooh farò finta di non aver sentito e vado no è una questione solamente nel senso pimpi mi affatica assai ah ok pimpi perché devo fare tutta una voce di testa tutta così capito ok oh c'è che gelo insomma un po' dopo un po' mi rompo ok ok lui mi dice hai netto con il fatto allora lì già era più divertente questo che gli tanto che la trema ha paura tutte queste cose così insomma vabbè però è carinissimo poi Winnie Pooh Winnie Pooh è carinissima la serie ci mancherebbe ok ok allora va bene sono un po' rincuorato da questa cosa scusate un po' d'acqua ci mancherebbe ci mancherebbe noi abbiamo le tazze in realtà diciamo che è acqua ma in realtà c'è tutto possiamo mascherare con qualcuno ma ci puoi mettere qualsiasi cosa in effetti anch'io questo potrebbe pure essere vodka esatto vodka liscia vodka liscia proprio vodka liscia esatto c'è potrebbe essere qualsiasi cosa tequila tequila anche tequila in chat sono impazziti tequila boom boom tequila boom boom no sale limone sono sconvolto con la tequila boom boom tequila boom boom è pazzesca ovviamente cioè non c'è niente che ti ubriaca così al volo come la tequila boom boom vero 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 in chat sono impazziti hanno detto signore non ce la faccio luca sei un grande per tutti noi è vero è vero un grande un grande sono mi fa molto piacere sono felicissimo perché non è che uno dice no non sono contento certo grazie non penso di meritarlo tutto questo però va bene come no come no allora andiamo avanti con le domande buonasera almeno a spanchi andrea luca grazie per essere qui vorrei chiederti se c'è un prodotto in particolare in cui ti è piaciuto di più doppiare Steve Buscemi Steve Buscemi beh in Mosche da Bar Mosche da Bar è un film suo di nicchia credo che ha visto pochissima gente è un film dove lui faceva sia la regia che il protagonista un film alla John Cassavetes se gli amanti di cinema forse sanno chi è John Cassavetes che è stato un regista americano che ha fatto dei film molto particolari Minnie e Mascovitz se non le conoscete per esempio Minnie e Mascovitz sono di quei film dell'altra America dell'America underground in un certo senso e i film e i film di Buscemi sono un po' su quella linea là cioè quasi un quasi un neorealismo all'americana che non so Bogdanovic non so se ci avete presente e Bogdanovic ecco per dire insomma ecco quindi quello è un film che mi è piaciuto anche perché poi devo dire c'era il direttore che mi lasciava andare quindi ho potuto fare una scena che lui era proprio ubriaco e l'ho potuta fare proprio tutta quanta che non si capiva quello che dicevo allora sono divertito come un matto però veramente fare gli ubriachi è divertentissimo fare gli ubriachi è divertentissimo eh beh sì sì perché poi puoi spaziare di più capito cioè è più inventiva insomma ok Gaetano ciao Gaetano buonasera a tutti Luca come è stato doppiare Steve Buscemi in Spy Kids 2 grazie mille un caro saluto Spy Kids 2 proprio hanno scelto oddio domanda difficilissima perché di Spy Kids 2 c'ho pochissimi ricordi cioè sinceramente non anche perché purtroppo qui adesso faccio un pettegolezzo non voleva cioè la direttrice del doppiaggio non voleva me su 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 quel film là perché se voleva per carità un attore straordinario bravissimo che purtroppo non c'è più che era Formica e lei voleva voleva Formica poi Formica gli ha sparato una cifra pazzesca e allora è dovuta ritornare a più sagge decisioni e io che ho sparato una cifra meno pazzesca di quella di Formica quindi io sono andato lì già con un po' è certo immagino effettivamente così non proprio contento lei era sempre così e quindi diciamo che è un proprio un film che è un po' cancellato mi dispiace per Gaetano ma è andata così l'ho detta proprio tutta ci sta no infatti anch'io sarei andato non così però abbastanza contrariato io non posso immaginare Steve Buscemi senza la voce di Luca quindi insomma questo c'è stato uno che è carinissimo che quando altra direttrice di doppiaggio che non mi ha voluto su Sky Scraper non so dove lui faceva il gangster e la Scotti dice sai perché questo è un gangster dobbiamo mettergli una voce più profonda più calda così e allora c'era uno che molto spiritosamente ha messo la foto di lui col bitra in mano ridateci la voce di Dalfabro però sai anche lì alla fine dei discorsi cioè se se tu pensi così sei tu che in quel momento devi decidere poi alla fine è giusto anche che fai così no 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 ma come ti pare a un certo punto anche perché tutto se non mi vuoi non mi vuoi basta non c'è problema insomma assolutamente comunque no no chiaro io capisco capisco il discorso e dici però io non ad esempio non capisco invece l'altra parte quando dice sai che c'è un gangster serve una voce perché Steve Buscemi quella voce ha poi la può trasformare quindi posso capire altre motivazioni però in realtà un attore può con la propria voce un attore che è stato sempre associato comunque a un determinato o quasi sempre a un determinato attore come quell'attore ha la sua voce che può magari con cui magari può giocare anche l'attore che gli dà la voce può anche giocare a sua volta con la stessa voce quindi secondo me da ignorante parlo sono pienamente d'accordo con te però non la vediamo tutti allo stesso modo anche perché soprattutto chi chi si occupa quasi principalmente ed esclusivamente del doppiaggio è più abituato a vedere su quel su quella su quel personaggio ci sta bene quella voce invece lì fa un altro personaggio allora è meglio mettergli un'altra voce molti la vedono anche un po' così capito che a seconda del personaggio l'attore è sempre lo stesso in originale sempre la sua voce ha è proprio quello infatti noi abbiamo il vantaggio che possiamo mettere infatti c'è mio figlio mi diceva sempre ma perché in italiano le voci sono sempre tutte più belle perché capito per esempio ci sono degli attori a volte che hanno delle voci pazzesche anche per esempio fu molto criticata la scelta della del film della ragazzina di Armageddon Tyron come si chiama Lynn Tyler che gli hanno scelto una voce molto simile a quella che aveva lei nell'originale anzi proprio sai gli americani fanno il match voice cioè praticamente le mettono per vedere proprio se la modulazione è la stessa e tante volte scelgono cioè gli americani scelgono in quel modo lì noi scegliamo su quella che ci sembra la voce che gli sta meglio secondo i nostri canoni insomma poi noi ci abbiamo il bello deve avere la voce bassa e calda il carattere deve avere la voce o roca o di testa o chioccia capito un po' un po' come era stereotipato la commedia dell'arte in un certo senso c'era l'innamorato c'era il primo era un po' così insomma ho capito ho capito domanda di mister Lannister Luca puoi raccontarci la tua esperienza di doppiaggio sul personaggio di Steve Brady in Sex and the City allora quello è un attore pazzesco un attore matto completamente perché lo faccio anche lo faccio anche in una serie che si chiama Chicago Chicago Fire Chicago Fire sì Chicago Fire lo faccio anche lì è un attore strano perché è un po' schizofrenico schizofrenico è molto non è facile andargli appresso perché fa un sacco di faccette di cose di contrazioni è faticoso un attore faticoso ecco diciamo che è un attore che faccio più fatica ad esempio Buscemi oramai proprio perché ha anche delle modalità di recitare che sono simili alle mie per dire mentre questo qui è proprio un'altra cosa faccio un pochino fatica proprio perché ha una recitazione molto a scatti e questo mi crea un po' di problemi però poi sai gli attori americani più o meno sono tutti bravi cioè lo standard americano è difficile che c'è quello che proprio da noi tante volte ci sono alcuni che dicono oddio ma questo non parlo di doppiaggio parlo di fiction parlo di presa diretta insomma per dire ecco ok Willow buonasera al man agli streamers al nostro favoloso ospite vorrei chiedere a Luca se che vuol dire se qual è ok io leggo così come c'è scritto vorrei chiedere a Luca se qual è il suo pensiero sull'amicizia e quali sono i suoi migliori amici veri e se ce ne sono stati immaginari come Bing Bong grazie di essere qui con noi stasera io ho avuto un amico immaginario per anni dai tre quattro cinque anni fino ai sei sette si chiamava Rinaldo Rinaldo lo chiamavo e ci parlavo tutto sono figlio unico quindi ci parlavo tutto il giorno l'amicizia io sono gli amici a volte non dico che sono più importanti dell'amore però per me sono stati io me ne porto purtroppo poi vista l'età che ho molti non ci sono più ma io mi porto che ne so Stefano Salvatore Pietro tutta gente che non fa questo mestiere me li porto da quando ha dei tempi di scuola per dire capito ancora ci vediamo ci sentiamo Pericle poi ognuno ha fatto mestieri diversi insomma e poi mi sono fatto ciò quei due tre amici che mi sono fatto invece sul lavoro cioè in teatro al doppiaggio ecco con le due tre persone con le quali io non ho tantissimi amici ho una marea di conoscenti amici veri ce ne ho pochi però siamo molto legati è una cosa a cui tengo molto l'amicizia moltissimo è un punto fondamentale no? l'amicizia non a caso anche perché quando poi la famiglia non ci sta più per dire capito gli affetti ma i figli vabbè insomma i figli sicuramente sono una cosa importantissima però i figli poi giustamente fanno la vita loro è giusto che facciano la vita loro come ho fatto io poi del resto insomma per cari d'arte invece gli amici ci si cresce insieme si cambia anche insieme quella è la cosa bella perché sono tanti cambiamenti che si fanno nella vita tantissimi tantissimi si cambia pensiero modo di vedere le cose una marea di volte senti spanchi le amicizie che sono importanti e che vanno soprattutto coltivate cosa che tu non fai con il sottoscritto cioè è una cosa ma noi siamo colleghi brava brava ha ragione ha ragione ha ragione ha imparato posso dire che ha imparato era una trappola chat non lo sapete sembravo io quella fredda ma in realtà era un test era un test ha capito che noi siamo colleghi e non siamo amici perché l'amicizia è un'altra cosa brava spanchi più ti metto la stellina sul come si faceva con i ragazzini dell'asilo che metti le stelline è una stellina it's a trap scrivono spanchi in chat scrivono anche spanchi coltiva il men devi annaffiarlo esattamente mi devi annaffiare altra domanda altra domanda c'è stato un personaggio che ha doppiato che ha adorato moltissimo ah ok non era la domanda era un'affermazione c'è stato un personaggio che ha doppiato che ha adorato tantissimo sto parlando di arwin in zac e kodi al grand hotel puoi raccontarci qualcosa sul lavoro ho fatto su questo personaggio eh sono passati un bel po' di annetti da quello là carino anche quello carissimo beh lì poi devo dire che zac e kodi era costruita benissimo come sitcom era fatta molto bene ehm beh quelle cose lì ti diverti tanto perché sono quegli attori che ti permettono di di esagerare di fare di fare di fare di fare perché era uno che faceva tanto sia di facce di smorfie di situazioni e quindi molto divertente un attore divertentissimo da doppiare molto 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 contento quello la Razzi mi ci mise lì Claudia Razzi era la direttrice ok Claudia Razzi vorrei menzionare una serie in cui Luca è stato direttore di doppiaggio Brothers and Sisters segreti di famiglia puoi dirci qualcosa su questo prodotto allora questo prodotto questo prodotto è stato stramato è stato soprattutto dalle donne devo dire perché devo dire ci arriva la parte prima cosa è stato scritto da uno psicologo uno psichiatra tutto un team abbastanza attento attento ai rapporti umani allo sviluppo dei rapporti umani e era bello come fatto perché era fatto la stessa cosa la stessa stesso momento di vita visto con gli occhi dell'uno e con gli occhi dell'altro quindi noi prima vedevamo visti con gli occhi di lei o poi con gli occhi di lui erano diciamo tre o quattro erano i personaggi principali della vicenda era un intreccio fatto molto bene un intreccio molto molto semplice tutto sommato però molto giocato sui sentimenti sui rapporti su queste cose qua poi sei un po' perso le ultime puntate sei un po' perso però le prime tre o quattro erano molto belle poi è fatto bene con attori molto bravi tra le altre cose che poi gli attori bravi aiutano tantissimo certo è vero aiuta prima di passare di continuare con le domande appena scritto una cosa settember 405 mi ha abbastanza incuriosito e la vado a leggere non è una domanda ma è un diciamo un esperimento che ha fatto un ragazzo in cui c'entra anche Steve Buscemi magari lo commentiamo insieme settember 405 scrive ognuno di noi ha sparse in giro per la propria casa foto di famiglia scattate in momenti particolarmente felici della propria vita ma quanto spesso diamo loro uno sguardo anche fugace per riportare alla memoria quello che abbiamo immortalato in modo da essere ricordato se l'è chiesto Kevin Mannion un ragazzo del Wisconsin che ha diato questo simpatico scherzo in famiglia con la complicità di Steve Buscemi beh non in carne ed ossa questo ragazzo che ha fatto Kevin durante un'estiva giornata noiosa ha deciso di sostituire alcune foto di famiglia sparse in giro per la sua abitazione con degli scatti di Steve Buscemi quello che il ragazzo non si sarebbe aspettato è che i suoi genitori ci avrebbero messo diversi giorni prima di accorgersi della presenza dell'iconico attore in casa cioè particolarissima questa cosa ha sostituito delle foto di famiglia in giro per casa gente con poco spirito d'osservazione però sicuramente io me ne sarei accorto subito perché io le foto le guardo tanto quindi me ne sarei accorto subito per esempio però sì però posso capire posso capire che tanta gente non ci pensa la guarda la foto la guarda anche ma senza vederla hai capito? esattamente e quindi non si accorge che era Buscemi era Giovanni ah sì vabbè per dire hai capito? quindi posso capirlo posso capire che per tanta gente ci mette un po' di tempo prima di rendersi conto insomma però cavolo come quelli che dopo una settimana ti dico ah ma ti sei tinta le donne ah ma ti sei tinta i capelli lei ha fatto cinque giorni prima per dire si sono visti tutti i giorni e prima non aveva mai notato insomma sì però cavolo cinque cioè diversi giorni ad esempio mi accorgo a parte che io sono dell'idea che quello che mi mi appendo mi metto in casa espongo è un qualcosa che mi piace talmente tanto che come posso o ci passo davanti io me lo guardo ma mi accorgo oppure se tipo un soprammobile invece di essere rivolto in un modo è stato spostato tipo di trenta gradi ecco io me ne accorgo di questa cosa e vado pazzo e quindi quella è un'altra cosa è un'altra malattia c'è quella sensazione c'è quella sensazione se sei così adesso immagino cosa potrai essere fra venti o trent'anni dici guai a chi mi starà vicino io per esempio sono uno che nei salotti d'attesa di medici o cose di questo genere vado a mettere a posto i quadri per esempio perché non posso vedere i quadri storti per dire mamma mia che fastidio che fastidio vedi quindi sei come me Luca sì sì sono un po' come te ma non è una cosa bella però non è che io sia felicissimo di questa infatti no devo rompere questo schema del cazzo basta lo metto così e sta così proprio perché dico no io sono talmente abituato quella cosa no stava lì stava lì stava lì stava lì stava lì dico no basta devo uscire devo uscire devo dire che un po' mi ha aiutato la madre di mio figlio che è completamente diversa da me in questo senso qua mi ha aiutato tantissimo un po' a uscire dalle maniacalità insomma ecco ok ok mi hai dato del maniaco indirettamente ti ricordo giustamente giustamente allora Andrea crea 25 che non è il nostro Andrea ricordiamolo ovviamente è una persona molto più figa di te Andrea diciamolo sì 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 migliore è migliore è l'Andrea 2.0 dice buonasera Tim buonasera Luca volevo chiederti se ti è piaciuto doppiare ste bucemi nella serie tv Miracle Workers dove era nei panni di Dio ma lì più che altro mi sono divertito perché il direttore era Oreste Baldini e Oreste Baldini è una delle persone più simpatiche che ci stanno al mondo e quindi lavorare con lui è praticamente quasi ridere ogni anello ogni anello poi alla fine si finisce per ridere anche perché lui ha una creatività sul cambio dei dialoghi Oreste che è una cosa impressionante infatti i dialoghi questo ragazzo evidentemente ha seguito se tu senti l'originale dicono tutte altre cose tante volte ma proprio tutt'altro completamente cosa che in teoria è permesso solo a Oreste di fare una cosa di questo genere capito perché trova la battuta che fa ridere di più e quindi tutto sommato il prodotto se ne avvantaggia per quanto sia ne guadagna quindi mi sono divertito anche perché poi lì quella serie prima faceva Dio poi sono finiti nel medioevo poi sono finiti nel West cioè tutta una cosa stranissima ma non so nemmeno dove vada quella serie che poi lo faceva insieme a Harry Potter come si chiama? si si Daniel Radcliffe se la sono prodotta insieme credo una cosa di questo genere proprio Carinelli 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 la prima idea quella di Dio l'idea era forte era diversa era un po' come quello il film francese non so se l'avete visto Dio è nato a Bruxelles non so l'avete vista mai quella commedia francese vabbè allora il fatto che lui facesse questo Dio molto strano particolare era divertente con tutti questi suoi segretari poi dopo si è un po' persa secondo me la serie sinceramente quando soprattutto nel West si è un po' persa è un po' persa ah si si il film è Dio esiste viva Bruxelles esatto è carino se non l'avete visto quello di Dio è un film molto carino non l'ho visto ma lo metterò in lista perché mi ha incuriosito adesso mi ha incuriosito è carino è carino tu l'hai visto l'hai visto tutto Andrea io non dormo io non dormo e quindi vedo le cose in loop tra l'altro questa cosa è un bene un male quando ero più piccolo avendo un fratello molto più grande di me appassionato di cinema praticamente mi vedevo una carrellata di cose che lui guardava per esercizio per interesse anche per esercizio di scrittura e quindi io stavo là e facevo da cavia cioè nel senso gli facevo da accompagnatore nella visione di roba anche improbabile certe volte tipo il film polacco non puoi capire non puoi capire quanti eh immagino che adesso non riguarderei mai però hai visto tutti quanti i colori per esempio di quello che ha fatto film bianco film blu film urso polacco polacco chieslowski chieslowski e questo è famoso perché sono film adesso non è vero è vero ogni film era un colore è vero è vero me lo ricordo io Andrea è pessimo era proprio film bianco film rosso film blu ce n'era uno che non era male alcune cose perché le storie a volte sono interessanti però molto lenti certe mattonate arrivavano che tipo non potevo di niente che ovviamente era un fratello più piccolo quindi guardavo e basta però nel senso a certe volte erano delle mattonate importanti non indifferente delle mattonate importanti allora zio fester buonasera ragazzi di man under the hood e luca al quale vorrei chiedere se può parlarci del doppiaggio di jude painter in poldark questo non lo conosco scusate è una serie che ho apprezzato moltissimo questa è dura poldark adesso sto ho capito qual è ho capito facevo un personaggio un po' lusco non molto uno sporcaccione facevo mi ricordo però mi ricordo poco sinceramente posso dire che il direttore era Benassi mi sembra che fosse Stefano Benassi sì sì era lui bellissima serie da questo punto di vista sono d'accordo con il ragazzo fatta molto bene girata molto bene con attori splendidi io sai io facevo questo personaggio sporchio quando devo fare poi personaggi sporchi che posso un po' sporcare la voce che posso fare un po' dei cose così mi piace sempre mi diverto sempre insomma invece di usare la mia vociaccia che non amo per niente insomma quindi se la posso in qualche modo mascherare mi fa piacere insomma quindi l'ho fatto molto volentieri quel mi ricordo mi ricordo scogliere mi ricordo scogliere cose di questo genere Jack buonasera 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 Andrea buonasera Spanchio ma soprattutto buonasera Luca io vorrei far notare quanto sono carini che tutti tutti ci salutano a noi e all'ospite prima di fare la domanda questa è veramente un motivo di vanto questo è molto bello l'ho notato anch'io sta cosa è vero è un motivo di vanto Luca perché noi teniamo molto alla nostra community e al fatto che secondo noi chi ci segue o chi segue comunque le persone rispecchia molto il padrone di casa quindi questa cosa io l'apprezzo tantissimo e vorrei ringraziare insomma tutti voi che continuate a salutare grazie a tutti voi prima di fare le domande perché A non è scontato e B è bello è bello perché no no è bello è bello è bello quindi bravi e grazie sono d'accordo sono d'accordo sono d'accordo siamo d'accordo abbiamo la community migliore di Twitch Italia diciamolo diciamolo allora sembra ovvio Jack arriviamo alla domanda di Jack innanzitutto ci tenevo a ringraziare il nostro caro ospite per essere qui con noi stasera e poi volevo chiederle se ha qualche consiglio da dare alla nuova generazione di doppiatori aspiranti doppiatori eccetera grazie mille in anticipo insomma la domanda che ha fregato Spanchi prima cercando di avere consigli giusto Spanchi disinteressata la domanda disinteressata di Spanchi esatto in realtà in realtà in un certo senso Luca hai risposto prima però se vuoi aggiungere altro no aggiungo altro nel senso lei mi ha chiesto una cosa specifica adesso la prima cosa che io dico sempre fate una scuola di teatro perché bisogna cioè bisogna essere attori per diventare doppiatori cioè perché l'attore cioè è una tecnica il doppiaggio è una tecnica quindi se tu oltre alla tecnica del doppiaggio non sai non hai una tecnica attoriale che ti permette di risolvere certe situazioni resterai quello che io dico sempre uno speaker io infatti dico sempre siamo pieni di speaker con delle belle voci con delle intonazioni tutte quante perfette senza neanche perdere una cosa però senza anima capito e quindi l'attore è quello che riesce a mettere l'anima quindi io soprattutto dico questo e poi soprattutto di imparare a memoria fare anche la vita andare a teatro andare al cinema però andare al cinema nel vero senso della parola non guardarseli solo in televisione perché anche un film visto al cinema è diverso da un film visto sullo schermo di un computer o anche una televisione grande come ho anch'io però insomma non c'hai quella quella magia non si crea la magia quello è un po' il cinema si crea la magia però ecco soprattutto soprattutto è nervi nervi avere tanti nervi avere tanti nervi quella è la cosa fondamentale avere tanti nervi e poi culo come si dice quando un'altra quando gli hanno chiesto ma per fare un successo di un disco che cosa ci vuole beh un 10% le parole un 10-15 la musica il resto culo cioè come nella vita in generale cioè il culo poi ci vuole ci sono persone che hanno la vita facile che non fanno altri che invece devono arrancare devono faticare di più e allora quelli che devono faticare di più tante volte si scoraggiano invece tante volte invece la perseveranza paga anche quella anche sommato bella perseveranza a quale attore personaggio si è più legato personaggi attori che ho doppiato ma attori che ho doppiato sicuramente Buscemi per quanto chi altro sai cos'è io i nomi non me li ricordo quello è il mio problema c'ho delle cose che ho doppiato che mi sono piaciute però non mi ricordo i nomi delle persone una volta per esempio ho scoperto che in Platoon ho fatto Johnny Depp per esempio non l'ho scoperto perché sai Jenna che scrive tutte queste cose però grazie a lui io grazie a lui ho scoperto di aver doppiato delle cose che non sapevo proprio alcune cose tuttora non so cosa siano sinceramente ogni tanto anche quando la televisione fai un po' zappi così e questo quando l'ho fatto per dire capito quindi è un po' è un po' quella la cosa è difficile comunque sicuramente l'attore che mi diverti più è Buscemi su questo non c'è dubbio Buscemi ma ti diverte anche nel film d'animazione perché poi alla fine l'hai accompagnato abbondantemente anche lì insomma beh sì forse solo Randall la tela di Carlotta che faceva un topolino mi sembra nella tela di Carlotta se non sbaglio adesso non mi ricordo sembra un topo Randall 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 sì ma Randall non l'ho sempre fatto io Randall no perché in Monsters University in Monsterenco l'ha fatto Formica poi vedi 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 infatti il buon Daniele persona straordinaria attore straordinario fra le altre cose bravissimo particolare strano però mi sembra che lui faccia anche sì ma lui mi sembra faccia anche se non sbaglio Hotel Transilvania no Hotel Transilvania l'ho sempre fatto io eh no no nel senso Buscemi in originale mi sembra ah sì 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 Hotel Transilvania l'ho sempre fatto io con Alessandro Rossi direttore Alessandro Rossi però insomma ha lavorato parecchio anche col film d'animazione e l'hai accompagnato quasi sempre tu tranne poche poche eccezioni sì 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 anche qualche altra cosa che adesso non mi ricordo sì ma sai ma molti attori americani fanno per esempio io faccio ho fatto come direttore per tanti anni una serie di Baby Boss non so se si è carinissimo dal film hanno fatto una serie abbiamo fatto non so quante puntate una marea di puntate e in originale lo doppiava Alec Baldwin Baby Boss per dire capito? certo cioè anche anche spesso gli attori americani c'era Phil Collins che ha fatto qualche altro film per esempio Alec lo doppiava come si chiama quello che è morto che si è imbazzato Robin Williams è il genio ecco per esempio quello è uno dei pochi casi in cui forse l'italiano era migliore dell'inglese perché Proietti proprio se lo mangiava sul canto soprattutto ecco quello è forse uno dei pochi casi in cui il doppiaggio ecco Proietti è uno che aggiungeva qualche cosina in più per dire io per esempio abbiamo fatto un film eravamo io lui e Alessandro IV che si chiamava Orphans Orphan Film e lì poi con Frede Arnaud che era questa vecchia direttrice di doppiaggio facevamo anche buona la trentacinquesima per dire capito però quando poi lì ti abbracciava ti cosava ecco quello lì lì si lavorava proprio ecco se tu vedi alcuni film di quegli anni là vedi proprio come il doppiaggio proprio si lavorava tanto 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 sulla battuta a trovare proprio l'intenzione precisa perfetta uguale all'originale solo certo noi a volte facevamo tre anelli a turno capito per dirti che c'è quindi insomma un po' adesso ci si possono permettere più quelle cose insomma ma perché sono arrivato a parlare di questa cosa mi so penso parlavamo di animazione ah sì stavo parlando infatti in chat dicono l'ottavore di Roma per proietti sempre nel cuore che nasceva cantante tra l'altro cantante di Knight faceva cioè Knight è vero è vero ho appena scoperto che Luca ha doppiato Arland adulto nella terza stagione di Umbrella Academy come è stato essere questo personaggio in questa serie fantastica scusate questo proprio non lo so allora di Umbrella cioè ci sta dimmi che è più o meno sta Umbrella Academy guarda io lo so solamente perché ho visto la serie è una serie abbastanza recente su dei personaggi insomma un gruppo di ragazzi prodigio con dei poteri dove il tuo personaggio se non erro Arland adulto doveva essere un personaggio non vorrei dire una cosa però abbastanza con qualche problema di personalità era il figlio della della signora che poi insomma ah sì sì quello che fa scoppiare tutto esatto quello che poi alla fine muore spoiler no capito ci do due anni fa però sì insomma praticamente era un signore distinto alla fine della fiera era un signore distinto con questa valigetta che andava sempre in giro con questa valigetta eh lo so è difficile va bene ci sta ci sta con tutti ragazzi questo proprio non me lo ricordo proprio ma ci sta con tutti i personaggi insomma che Luca ha doppiato insomma mi dispiace proprio non riesco a metterlo a fuoco se mi chi era il direttore per esempio forse già questo potrebbe avvenuto Alessia Mendola era la direttrice ma ho fatto solo una puntata ho fatto pochissimo ho fatto pochissimo una cosetta proprio credo un turno solo la parte importantissima nella serie ma no no impossibile lui è una parte importantissima allora nella serie lui in quel frangente lì si vede poco però fa il personaggio è importante però anche adesso si vede poco ah si va adesso qualche adesso qualcosa mi si qualcosa ma qualcosa qualcosa cosa 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 mi dispiace no ma ci sta ci sta no no non ti dispiacere invece ti chiedono quale tra tutti i personaggi a cui hai dato la voce senti più simile a te a livello caratteriale cioè c'è qualche personaggio con cui hai provato magari un'affinità specifica perché ti assomigliava aveva di tratti in comune a livello caratteriale domanda difficile alla quale è difficile rispondere anche perché non mi sono mai posto questo problema capito quindi non non saprei non saprei sinceramente non so lo saprei dire non ok no 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 e allora andremo avanti con la domanda di Zio Fester che ci dice se puoi parlarci dell'esperienza di doppiaggio su Wayne in Hotel Transilvania eccolo qua Wayne e ritorno Wayne 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 il lupaccio il lupaccio ma è quello devo dire un personaggio molto così di come si può dire di contorno Wayne in Transilvania non è un personaggio principale non c'ha mai qualcosa se ogni tanto c'ha qualche interventino carino divertente però tu considera che io facevo un turno in tutto il film credo l'idea di Massima cioè proprio qualche interventino qua e là insomma non era gran cosa insomma strano strano perché poi doppiare un lupo era un po' poi anche Buscemi lo faceva in una maniera strana devo dire lì mi sono trovato un po' in difficoltà con Wayne ci ho messo un po' poi devo dire grazie a Alessandro che è un direttore molto attento allora siamo riusciti a trovare la strada però inizialmente faticavo faticavo proprio a trovare la chiave per farlo poi alla fine insomma dopo vari tentativi ci siamo riusciti però inizialmente ho avuto un po' di difficoltà con tutto che era Buscemi insomma per dire ok certo allora dato che noi non vogliamo sequestrare il nostro ospite che è stato molto carino e cordiale io andrei a fare a leggere l'ultima domanda a chiedere a Luca se vorrà fare quella cosa ah dici la chiusura e poi e poi ci salutiamo l'ultima domanda ovviamente sto saltando un po' di domande vado proprio sull'ultima arrivata perché c'era non so American Horror Story sto leggendo Muni insomma un po' di cose però quindi stai premiando il primo e l'ultimo sto premiando l'ultimo sempre anche quelli in mezzo ho premiato in maniera fissa l'ultima domanda è sui tuoi ricordi circa il fantasma molla in Casper stiamo parlando wow che bella domanda questa quindi lì ci siamo divertiti come pazzi poi eravamo io e Mino Caprio che faceva l'altro fantasma e poi il terzo fantasma lo faceva Marcello Tusco e lì ci siamo divertiti come matti ci siamo divertiti come matti perché erano fatti molto bene i dialoghi che aveva fatti Carlo Valdi credo che li avesse fatti che faceva anche la direzione Carlo e ci siamo divertiti come matti perché il film era molto carino gli interventi loro erano molto 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 divertenti e poi soprattutto sai che cosa il cartone soprattutto ti dà la possibilità di giocare di più sicuramente in fronte di massima cioè laddove invece con l'attore diciamo in carne ed ossa sei giustamente più dentro devi essere più dentro proprio il personaggio l'attore mentre del cartone puoi un pochettino fare qualcosa di più estroso ecco diciamo in linea di massima quindi ci siamo divertiti veramente e stiamo parlando di lì ci siamo parlati una ventina da anni fa buoni eh sì Casper ma lì eravate già separati o c'era ancora il lavorare insieme no lì si stralavorava insieme cioè fino al allora il discorso è questo a un certo punto gli americani hanno cominciato a volere sui film ogni ogni voce su una pista in modo che poi loro avevano le piste ogni voce su una pista e quindi poi potevano decidere loro di alzare gli abbassare perché spesso il missaggio poi veniva fatto in America e quindi hanno cominciato a chiedere questa cosa ma noi stavamo anche stavamo in cinque al leggio anche uno sopra l'altro capito cioè era divertentissimo no no cioè gli anelli quindi che stavano dentro l'anello stavano al leggio erano due erano tre erano quattro a seconda certo brusianti il brusio per esempio si faceva adesso per esempio il brusio ultimamente io quando le ultime cose che ho fatto di direzione ho dovuto anch'io fare il brusio cioè vieni te dici ah bah 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 poi arriva lui e poi dopo si metteva tutto quanto insieme invece prima il brusio si facevano avevi dieci persone in sala comunque il brusio è uno dei modi migliori per imparare a fare il doppiaggio perché ti sgrezza tanto io quando ho iniziato io si faceva tutto il karate c'era tutto il periodo del karate quindi noi facevamo tutto il giorno perché poi gli attori i protagonisti facevano le battute così poi i versi facevamo tutti noi ragazzi capito li facevamo fare vedi vedi non me l'aspettavo ok allora stop alle domande ovviamente dai stasera sono stato molto bravo oggi ti meriti un paio di insulti in meno esatto anzi oggi mi merito anche qualche complimento in privato una pacca sulla spalla e tre insulti questo deve essere il rapporto va bene va bene e Luca allora noi finiamo le nostre dirette con chi ovviamente ha voglia di farlo con un diciamo un video saluto al canale a noi a chi ci segue questo perché perché noi abbiamo una sigla con quale iniziamo tutte le nostre dirette ovviamente essendo al 205esimo episodio di Live Talks abbiamo quattro sigle con cui iniziamo le nostre dirette e non è altro che un video saluto dei nostri ospiti a a chi ci segue insomma al canale a noi ci è venuta l'idea per non farli stare davanti a un'immagine fissa per un quarto d'ora con la musichetta e ho detto un buon modo per ricordare la diretta per per intrattenerli insomma diciamo quindi ci è venuto in mente anche con Radio Italia no? quando tu senti ciao sono Laura Pausini anche io ascolto l'Italia perché non espanderla per tornare allo speaker esatto per tornare alla radio allo speaker ovviamente non è un obbligo quindi è discrezionale se ti va di farlo a noi piacerebbe tantissimo inserirti ma dimmi una cosa cioè come vi devo chiamare a voi il nostro diciamo il nostro canale si chiama Man Under The Hood poi puoi anche salutare Man Under The Hood uomini sotto al bosco insomma uomini sotto al cappuccio Man Under The Hood ah hood esatto però puoi anche in realtà puoi dire e fare tutto ciò che vuoi puoi dire mi sono trovato malissimo non ci verrò mai più puoi dire bloccherò men's punk andrà calcola che c'è stato chi ha cantato chi ha fatto che parla ai pupazzi cantato allora c'è c'è chi ha cantato chi ha fatto parlare i pupazzi chi ha fatto parlare i pupazzi ma c'è gente piena di fantasia di tutto di tutto però dopo 205 episodi dopo 205 episodi ne abbiamo viste però puoi dire cioè va benissimo anche salutare il basso cioè nel senso non mettiamo limiti alla fantasia ma non mettiamo neanche cioè fai tutto ciò che vuoi se ti va va bene ok allora guarda io ti metto grande adesso così togliamo le nostre brutte facce ricorda il tasto play e se devo ricominciare non c'è problema insomma prenditi tutto il tempo ma voi poi che fate un montaggio di questa cosa noi prendiamo questo estratto lo mettiamo insieme ad altri videosaluti e iniziamo le nostre dirette perché noi attacchiamo un quarto il collegamento così mano a mano le persone si collegano però è mezzo si vendono tutti i giorni così esatto esatto siete pronti tutti i giorni pensa che palle tutti i giorni tutti i giorni come che palle no dobbiamo venderla meglio è una cosa fighissima scherzo scherzo allora ci sono tre gradi sto vedendo qua ragazzi tre gradi fa freddino fa freddino tre gradi allora allora io dico tre due uno e poi inizi quando vuoi ok quindi tre due uno allora cari ragazzi di under the wood the hood under the hood no the wood hood hood cappellino cappellino siete stati splendidi veramente carini simpatici bravi mi sembra molto carina la trasmissione anche per far conoscere alcune cose non solamente il doppiaggio anche altre cose e poi volevo anche ringraziare tutti i ragazzi che hanno fatto le domande che sono state domande molto simpatiche divertenti quindi niente è stata una serata molto piacevole anzi che la rifaremo presto casomai venite voi da me a casa mia stiamo un pochettino qua vi invito a cena vi faccio una pasta ci mangiamo una cosa va bene detto questo vi saluto tanto 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 caramente vi lascio con un piccolo aforisma arabo che vi farà pensare un pochettino molto carino divertente regala un cavallo a chi ha detto la verità gli servirà per fuggire va bene ragazzi allora tante 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 care cose un abbraccione un bacio a tutti quanti tante belle care cose tante buone cose a tutti quanti voi ciao ciao fantastico che bel saluto che bel saluto bellissimo grande anche qui al volo ragazzi sempre che mi preparavo ma è stupendo è stupendo così è fantastico è fantastico fantastico Luca infatti Luca è una leggenda scrivono yeah fighissimo fantastico sta adorando fighissimo Luca di atoro Luca ti adoriamo Luca è una leggenda vedi ti adoriamo stia divina 92 manuti da plasi a Luca comunque io mi aggancio io ho fatto anche il chirichetto ragazzi sai uno dei motivi per cui non vado in chiesa perché sono stato da scuola dei preti altra cosa quella va bene lasciamo perdere va io dalle suore va bene ragazzi ma quindi ci stiamo salutando allora ci stiamo salutando però io vorrei un attimo collegarmi a quello che mi hai detto perché ho visto anche in chat che dicono Luca speriamo di rivederti presto su questi lidi perché noi di tanto in tanto facciamo una volta al mese una live speciale tematica su una cosa un film una serie tv andiamo a invitare un po' di persone il direttore del doppiaggio le voci principali chi ha lavorato sugli effetti speciali del film il fumettista che ha curato la parte grafica diciamo di disegni quindi se a te in futuro farà piacere non ci bloccherai prima ma noi va bene va bene va bene non ci avete il mio numero ci avete tutto di me sì 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 mi chiamate al limite io vi dico di no nella peggiore dell'eipote però noi chiediamo solo il permesso di contattarti perché non vorremmo disturbare poi c'erano non vogliamo fare non vogliamo fare come i call center capito che poi vedi il numero e fai oddio questi oddio che palle però guarda cerchiamo di togliere la parte non professionale spanchi no no poi ti ho detto che sono in un momento in cui mi piace dare 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 capito ho preso tanto mo do ho preso mo si dà un pochettino insomma è normale come dice quello là si nasce incendiari e si muore pompieri no ma è vero è vero allora noi ne approfitteremo di questa cosa sappilo Luca va bene volentieri ragazzi grazie mille per noi è stato un abbraccio a tutti quanti ci spegniamo ci spegniamo per noi è stato un grandissimo piacere un onore anche per me salutiamo salutiamo anche tutti quelli che ci hanno seguito grazie mille siete fantastici noi ci vediamo domani ragazzi anche io sto salutando non voi sto salutando tutti gli altri ciao ragazzi ragazzi ciao a tutti buonanotte ciao Andrea ciao Luca grandissimo buonanotte grazie ancora ciao boom me ne vado si ciao ciao